Sono Cianfanelli David, sono di Podere Cianfanelli, il titolare. È un'azienda che ho creato nel 2014 per cercare di valorizzare il mio territorio attraverso la produzione di vino ad agricoltura biologica. Avendo la terra di famiglia e prima vendevamo l'uva, ho deciso, ho finito l'università, di mettermi in proprio e fare il mio vino, la mia etichetta e cercare di crescere insieme alla mia terra. Cerco di seguire tutte le operazioni dal campo alla cantina a prima persona perché credo che solo così si possa costruire un legame forte e imprescindibile tra quello che fai e la tua terra. Cianfanello è un chianti classico Sangiovese in purezza. Sangiovese in purezza perché credo appunto che bisogna valorizzare questo vitigno che è la nostra storia. La sfida che affronto tutti i giorni e che mi piace nel vino è che non ti puoi sentire mai arrivato perché ogni anno devi rimetterti in gioco, c'è una nuova vendemmia, una nuova stagione e tutto riparte da capo.